Con noi è Emanuele Aramella, presidente della provincia di Biella. Siete riusciti così a portare avanti insieme a Inail un buon risultato per aumentare l'offerta di aule per i studenti billesi e svincolarsi da città studi. Sì, è un'opera che attendavamo questo decreto di validazione sostanzialmente dell'opera di bollinatura, perché è un decreto della Corte dei Conti da parecchio tempo, un iter che è stato molto lungo perché supera i dieci anni da quando l'allora governo Renzi emise il decreto con il quale permetteva agli enti locali di partecipare a quel tipo di bando. Lo abbiamo portato a casa con vari aumenti di prezzo, ora l'opera è valutata sui 17 milioni di euro. Noi dobbiamo effettuare un intervento per consegnare il terreno a Inail di demolizione della vecchia sede dell'officina di Atap. Lo manderemo in bando subito dopo l'estate, immagino, e quindi poi consegneremo a Inail un terreno sgombro sul quale potrà realizzare la nuova scuola, che darà al nostro territorio una scuola moderna, nuova, con un concetto decisamente nuovo e sarà che riguarda l'agroalimentare che fu quello che vinse quel bando e un'offerta formativa esatto decisamente superiore al territorio. Noi siamo in forte apnea di aule e quindi ogni anno siamo alla ricerca di luoghi dove affittarne e questo sicuramente ci aiuterà concedendoci un polmone importante. Ecco Presidente, siamo in apnea per le aule, ma siamo in apnea anche sullo sviluppo demografico del biellese, quindi gli studenti tendenzialmente scendono. Con questa struttura e questo tipo di scuola ci poniamo anche però come un polo attrattivo per mirare a catturare degli studenti che arrivino da fuori dalla provincia. Sì, sicuramente. Noi abbiamo già una parte di studenti che arrivano fuori dalla provincia e arrivano nelle zone, se vogliamo, confinanti della provincia di Biella, l'esempio di Cavaglià, sempre dall'alberghiero, ne è il più classico. Questo sarà un polo assolutamente moderno con il quale ci auguriamo di attrarre ulteriori studenti che arrivano da fuori provincia, può essere il Vercellese piuttosto che il Nuovarese che oggi sta girando sul liceo del Cossatese. E in più noi soffriamo di una carenza storica in questo territorio di aule legate alle superiori perché non realizziamo più scuole nuove da molto tempo nella realtà e quando ci fu l'ampliamento dell'offerta formativa inevitabilmente la provincia si adeguò affittando sostanzialmente delle aule non pensando di costruire nuove scuole. Quindi non facciamo la cattedrale nel deserto, questo ci tengo assolutamente a sottolinearlo malgrado ci sarà una forte riduzione dei numeri degli studenti nei prossimi anni.